Credo che sia bellissimo vedere questi bambini in campo, mettere le proprie energie, le proprie forze, la propria passione, l'amore per questo sport. Quindi anche se siamo partiti in sordina con questa attività, da quest'anno stiamo cercando di ingrandirci sempre di più. Una cosa fortemente voluta dal sottoscritto, da tutti i collaboratori e soprattutto dalla famiglia d'Agostino, quindi sono molto contento. Quando si parte con un progetto nuovo ci sta sempre un po' della difficoltà iniziale, un po' lo scetticismo anche di chi deve avvicinarsi. Però penso che sia stato più che altro, se c'è stato qualche problema, solamente un problema di tempi, perché per quanto riguarda le società abbiamo avuto un buon riscontro e quelle che si sono avvicinate, si sono affiliate, hanno tutti i requisiti che servivano. Soprattutto c'è la scuola calcio di Peppe Morfu, che comunque viene da un'altra regione, quindi un ex calciatore dell'Avellino. Una cosa che mi fa molto piacere, dal primo giorno che mi telefonò per chiedere come funzionasse, sono rimasto molto orgoglioso e contento di questa affiliazione. Io spero di continuare così, nel senso sempre con molta umiltà, in silenzio, a portare avanti le attività di tutte le categorie in maniera costante ed omogenea. Qualche ragazzo si sta avvicinando sempre di più alla prima squadra, qualche giovane si sta distinguendo pure per quanto riguarda le rappresentative, ragazzi anche Irpini, che è sempre una cosa positiva. Insomma, vedere ragazzi come Solaro, Codraro e altri che sono andati pure con le rappresentative e che stanno arrivando in prima squadra, questo ci rende molto, molto orgogliosi. Il lavoro deve essere sempre lo stesso, sia con la primavera che con le squadre nazionali, cercare di lavorare sui singoli talenti dai 2008, dove ci sono Aloisi, Angrisano ed altri ragazzi che, ripeto, stanno andando con le rappresentative e sono molto seguiti, fino appunto alla primavera. Poi con i più piccoli è chiaro che è più un'attività ludica e Gigi Molino, che è il responsabile della cantera, con tutti i suoi collaboratori stanno facendo un ottimo lavoro, quindi dobbiamo soltanto portare avanti piano piano questo progetto, ripeto, con molta umiltà e con perseveranza.